La postura del soggetto secondo me è dovuta ad una malattia esantematica che ha provocato un deficit di calcio nelle ossa che a sua volta ha scaturito questo inarcamento dell'urla del radio Collega, quell'interdata ha avuto un incidente per cui ha avuto un inarcamento delle articolazioni scapole omerali in avanti si è inarcata la clavicola e porta le braccia così vuoi vedere? Non sono d'accordo Non sono d'accordo inarcamento dell'articolazione dello scapole omerale e artrite al gomiti No, vieni a me, vieni a me Trauma e basta! No, malattia esantematica Scommettiamo Scommettiamo Scusi, Giove, Giove Chi è? Aspetta un secondo Voglio capire pure io Che è successo? No, no, niente di dramma No, no, è un fatto nostro Siccome è per una scommessa diciamo Se noi volevamo sapere, ma perchè hai le braccia così? Così Madonna Mi hanno fregato i meloni I meloni Meloni La blu I meloni Chi l'ha preso i meloni? Mi l'ha chiamato la blu Il trauma? No, le malattie esantematiche Coi meloni o? Ma, la bambina è un po' Ma, la bambina è un po' Ma, la bambina è un po' Grazie.